Tragedia in comune stamani a Pescara. Un funzionario 51enne è stato trovato senza vita in bagno, dove si era recato a causa di un malore sul lavoro. Un evento che ha scosso consiglieri e dipendenti di Palazzo di Città. Si sarebbe trattato di un infarto. L'uomo, a detta di colleghi, aveva avvertito gioieri alcuni sintomi, ma stamattina era arrivato puntuale al lavoro fino alla tragica fine. Sarebbero stati proprio i suoi colleghi, non vedendolo rientrare in ufficio e non rispondendo alle domande, a sfondare la porta del bagno e fare la tragica scoperta. A nulla sono varsi i soccorsi. Sportivo, apprezzato e benvoluto da tutti, come lo descrivono. Era appassionato di immersioni subacue e padre di una ragazzina di 14 anni. Il Consiglio Comunale previsto per questa mattina ovviamente non si è aperto. Punti importanti nella seduta di oggi, quali la sede della Regione Abruzzo sull'area di Risulta, la vendita di una parte del Media Museo, una consulenza per accelerare i progetti del PNRR e spropi da oltre 14.000 m2 per allargare la pineta danunziana ferita dal rogo del 1 agosto dello scorso anno. Il futuro del capoluogo adriatico in una seduta da resa dei conti tra l'amministrazione Masci di centro-destra e l'opposizione con PD e Movimento 5 Stelle. Al voto gli obiettivi strategici del sindaco Carlo Masci fino al 2024 contenuti nel DUP, documento unico di programmazione. Il Consiglio è stato rinviato forse a lunedì. Ora tutti uniti nella commozione, consiglieri e dipendenti che conoscevano e apprezzavano umanamente per il lavoro svolto il dipendente scomparso prematuramente e improvvisamente. Il sindaco di Pescara Carlo Masci esprime il suo corduglio a nome di tutta l'amministrazione comunale. Un giorno davvero treste per Palazzo di Città.